Il paradiso delle signore ultima puntata, Riccardo ritorna da Angele e Salvatore riproverà a riconquistare Gabriella. Lunedì 27 aprile si concluderà la fortunata stagione del pomeriggio di Re 1, il paradiso delle signore. La sopa ha avuto un elevato successo, ma vediamo che cosa accadrà nell'ultima puntata. Salvatore lascerà all'interno dell'atelier un biglietto per Gabriella perché non si rassegna l'idea di perderla, peccato che questo biglietto verrà preso da Agnese. Riccardo come sappiamo è sceso a compromessi con Ludovica, ma però non rinuncerà ad Angela. E cercherà di fare di tutto per riconquistare il cuore della donna, anche se non sarà assolutamente facile. Arriverà Lidia Barone, una docente universitaria di Roberta. La donna ex partigiana citerà particolarmente a dire la sua e a far conoscere la sua esperienza personale all'interno del negozio. Così e con altri colpi di scena terminerà questa quarta stagione di successo del paradiso delle signore. Ma visto l'enorme successo come dicevo prima, la Rai ha deciso di fare le repliche che partiranno dal 28 aprile al solito orario alle 15.40. Ed è in attesa anche il paradiso delle signori 5, ma bisognerà ovviamente attendere la prossima stagione televisiva. Iscriviti al canale e lasciami un like di supporto se il video ti è piaciuto. A presto con nuovi video da Angela. Iscriviti al canale Iscriviti al canale